Grazie a tutti. 1.22 la media al chilometro da confezionare, a modo mio è Andrea Farolfi per il training di Mauro Baroncini, apprendista Marcos Morgoni, il training suo, questi due partecipanti a questa prova di qualifica. Si va con, a modo mio, che contiene apprendista, a modo mio è un portacolori della famiglia Legati, Scudria Indalm, Andrea Farolfi per Mauro Baroncini, un maschio da Pincipe e da Grandi, apprendista Marcos Morgoni, anche l'allenatore, i colori suoi della Trotto Italia. Da Libeccio Griffin, in Fea Turbar, 15.4 i 200 iniziali, con i quali a modo mio B contiene apprendista. 400 che si completano in 32, molto cauti, con, a modo mio B, Andrea Farolfi, che precedono apprendista, e Marco Smorgon. Ne vengono fuori 600 in 47, appena abbondante. Recorriamo a modo mio B, da Pincipe e da Grandi, il training di Baroncini, i colori della Indalm, di Renato René Legati, apprendista da Libeccio Griffin, in Fea Turbar, mentre la metà gara in 1.4 si va da 1.20. Marco Smorgon, la Trotto Italia S.A.S. Siamo nei pressi del chilometro, 650 per la precisione, per completare questa qualifica, i mille di gara se ne vanno in 1.20 circa, 32.7, dal palo metà dritta opposta, passo costante, abbastanza blando, per a modo mio B, sempre seguito da apprendista. Siamo arrivati così ai 1.200, in 1.35.9, 31.9, il terzo quarto, a modo mio B, in vantaggio apprendista, che sempre a quel paio di lunghezze indietro, l'ingresso della dirittura d'arrivo, i due divisi da un paio di lunghezze fin dall'inizio, a modo mio B, allunga ulteriormente rispetto ad apprendista in retta d'arrivo, e viene a confezionare la prova di qualifica, la passa anche apprendista, ovviamente il tutto si chiude in 2.7 e mezzo, con un arrivo in 31.7, la meta di 1.19 e 8, a modo mio B, Andrea Farolfi, Mauro Baroncini, la Indal della famiglia Legati.